Bentornati ragazzi sul canale di PokéShiny E quest'oggi ragazzi PokéShiny vi porta l'unica, perché ce ne sarà una soltanto Di Mega Raffle Opening di XA Y Forze Spettrali con il bellissimo Mega Gengar Nello sfondo Allora ragazzi, visto che è il set nuovo, appena uscito Ovviamente i partecipanti saranno 100 questa volta, quindi saranno i primi 100 che commentano il video Ovviamente pretendo, dico pretendo, perché con una Raffle Open di XA Y Forze Spettrali posso pretenderlo Mi stavo incartando E pretendo, condivisione su Google+, condivisione su Facebook e ovviamente almeno 100 like 100 partecipanti, 100 like Allora, la Mega Raffle Open ragazzi sono 20 pacchetti Per cui, Vinca è il migliore E ricordatevi Partecipano i primi 100 che commentano il video E almeno 100 like Sono ben 20 pacchetti di Forze Spettrali ragazzi L'ultimo set uscito Quindi iscrivetevi Al mio canale per poter partecipare alla Raffle E rimanete iscritti al mio canale Perché ragazzi, nel momento in cui mi accorgo che Alcuni si iscrivono solo per le Raffle Poi si cancellano Anche se si scriveranno per le Raffle successive Prossime, io non li considero Ve lo dico apertamente Perché adesso mi sono un po' scocciato di queste cose Allora, prima carta liscia Quindi, state beccando già una X E ricordatevi che le carte che io non ho Rimangono con me Quello ormai lo sapete E le carte doppione Ovviamente non ve le spediscono Perché non avrebbe senso Qui sto sfasciando il pacchetto Ma vado un po' di fretta Perché voglio poi godermi al massimo Lo scartamento Lo scorrimento delle rare Quindi beccate anche ben 25 codici online Perché sono 20 pacchetti E 5 codici all'inizio del video Che ho dato Quindi aprite quasi un box online Stiamo per finire la prima fila Mancano gli ultimi 3 pacchetti Vediamo un po' se sarà abbastanza ricca Questa Raffle Perché altrimenti Aggiungo qualche altra carta Non c'è problema Ne ho qualcun'altra ripetuta Di forze spettrali Quindi Vediamo un po' cosa esce Ok Allora la prima colonna è andata E se non sbaglio c'è solo una ex Tranquilli che tanto non ve la lascio Eventualmente così povera la Raffle Se non troviamo nient'altro Aggiungo qualcosa io Ok Allora vediamo un po' se riesco a... Ok Sarete mi sono molto concentrato Sull'apertura Perché voglio fare subito Uuuuh C'è una carta ruvida Quindi abbiamo già una ex E una full art Bene E la cosa Non ci dispiace Quindi sperate che non ce l'abbia C'è che ce l'abbia Oh me sbaglio sempre Sulla cosa Questo pacchetto si è aperto bene Nonostante io L'abbia fatto Ad urto Mi è sembrato di toccare un'altra liscia Credo Adesso vediamo un po' Ok Siamo quasi alla fine Ci siamo quasi Quindi ricordatevi 100 partecipanti 100 commenti 100 almeno 100 like Condivisione su google plus E facebook Ultimo pacchetto E andiamo a vedere le rare Pacchetti con Mega Manetrick Sono quelli che si salvano Di più Alla grande E c'è un'altra liscia Ok Allora ragazzi Andiamo a scoprire Che cosa vi porterete a casa Galvantula 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 Draholo Andiamo a scoprire Andiamo a scoprire Blissy Tiggesby Un altro Blissy Xante Full Art Ragazzi che io non ho Ve lo dico Ve lo dico già Ve lo dico già Ve lo dico già Mi sa che non ce l'ho Crobat Livanni Pairo Varaolo Che era l'unica Olo che mi mancava Benissimo Crobat Xcavalier Jelicent E Manetrick X Allora ragazzi Aspettate un attimo Che io controllo Se ho quelle due carte Che vi ho detto Aspettate un attimo Soltanto Altrimenti Aggiungiamo Alla 24 Ve lo dico subito 24 24 Allora Mega Manetrick Non ce l'ho Xante 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 Non ce l'ho Allora ragazzi Vi dico già Che aggiungo Facciamo così Allora Manetrick X In italiano Rimane Poi vi aggiungo Un Malamar X Sempre in italiano Quindi Malamar X E poi Aggiungiamo anche Ok Una Z Full Art Ecco Facciamo così Quindi a Z Full Art Malamar X E Manetrick X Si porteranno a casa Queste carte Chi Se giudicherà Questa Raffle Ragazzi Aspettate i vostri commenti E i vostri like A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.